Arreghi è un'azienda globale con una grande esperienza nel mercato delle soluzioni per sicurezza, ricezione di posta o pacchi e prodotti per la sicurezza della casa. Arreghi progetta, fabbrica e commercializza vari tipi di prodotti, cassette postali, segnaletica e mobili per zone comuni, casse forti, articoli di sicurezza e protezione, articoli per la raccolta differenziata e l'ordine. La nostra sede centrale è a Orio, San Sebastian, Spagna, dove abbiamo un impianto produttivo dotato delle più avanzate tecnologie. Abbiamo anche un impianto di produzione a Ningbo, Cina e degli uffici commerciali in Italia e Taiwan. I nostri prodotti sono distribuiti nei principali mercati dei cinque continenti. La nostra ricchezza più grande è un team di persone affidabile con criteri di uguaglianza per donne e uomini di grande esperienza e totalmente coinvolti nel nostro progetto. Mettiamo la massima cura nei nostri prodotti, nel loro design e presentazione, sempre nel rispetto delle normative vigenti e raggiungiamo i massimi livelli di qualità, testimoniati da svariati certificati. Fedeli al nostro impegno per il rispetto dell'ambiente, i nostri prodotti sono fabbricati con materiali riciclabili al 100% e contribuiamo perciò in maniera significativa alla sostenibilità ambientale. Arreghi lavora giorno per giorno con l'obiettivo di ottenere la soddisfazione dei suoi clienti. Questo è il nostro impegno quotidiano verso coloro che rappresentano il nostro presente ed il nostro futuro. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!